Ah, non si sa se viene. E cosa ne va a dire, non si sa? Mi scusi tanto, signorina. No, io grido, perché... Viene o non viene? Vabbè, vengo, non vengo, non me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio. Sì, sì, ce lo dica, papella, papella a questo signore.